Salve a tutti cari fratelli e sorelle, Dio ci benedica e sia lodato il nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo e Ave Maria. Andiamo un po' a vedere quello che cosa succede nel versante dei vulcani. L'Etna continua a sparare, cenere e lapilli, veramente una cosa incredibile, continua comunque sull'Etna. Anche lo stromboli ha dato segni di botta anche da parte, diciamo, dello stromboli sempre in Sicilia e alla fine anche nel vulcano di Sinaburg che si trova in Indonesia se non erro e anche in questo caso, diciamo, di fumo di 5 km come più o meno e anche qualcosa in più sull'Etna. Quindi vedete che anche i vulcani in Sicilia e anche in, ripeto, anche fuori in Indonesia, questo sta accadendo. Che il Signore abbia veramente misericordia di noi e Ave Maria.